Nel trascorso fine settimane i carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del territorio di competenza, ed in particolare sono stati predisposti i controlli allo scopo di contrastare reati in genere e, più nello specifico, quelli di natura predatoria, oltre all'attenzione rivolta al rispetto della normativa anti-covid-19. A Santa Domenica Vittorio i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 55enne del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel corso del controllo eseguito, nei confronti dell'uomo, mentre era alla guida dell'autovettura, a lui in uso, i militari hanno accertato un tasso alcolemico medio superiore a 1,30 grammi litro. Per tale motivo è proceduto al ritiro della patente di guida. Gli stessi militari inoltre hanno denunciato in stato di libertà un 47enne, originario della provincia di Catania e abitante nel siracusano per false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'uomo nel corso del controllo eseguito, nei suoi confronti, mentre era alla guida di un'autovettura, ha fornito ai carabinieri false generalità. Attraverso più approfondite verifiche, i militari dell'arma sono riusciti ad addivenire alla sua esatta identificazione, accertando altresì che era sprovvisto della patente di guida, in quanto revocatali nel 2017 dalla prefettura di Siracusa e pertanto al 47enne è stata combinata anche la sanzione pecuniaria di 5.100 euro. I carabinieri della stazione di Sinagra, collaborati dai militari dell'arma di Ucria e di Ficarra, hanno proceduto amministrativamente nei confronti del titolare di un esercizio pubblico, poiché in ottemperante alle disposizioni finalizzate a contenere il contagio da Covid-19, nei cui confronti, oltre alla sanzione prevista per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale nell'espletamento dell'attività lavorativa, è stata applicata la chiusura per 5 giorni dell'esercizio. Durante il servizio complessivamente, si è proceduto al controllo di 122 veicoli e 165 persone, levando 21 sanzioni relative a infrazioni al codice della strada.